ecco qua cari amici vorrò farvi vedere che nonostante il freddo che fa un freddo cane sono tre giorni 33 gradi sopra zero ma c'è un bellissimo sole l'impianto di fotovoltaico ti dà qualche soddisfazione vedete questa applicazione allora 19 e la produzione kilowatt ora 0 2 e il consumo 0 8 va in batteria che al 93 per cento è quasi piena e 09 la sto vendendo al gestore nazionale dell'energia elettrica sì non mi farò l'alloggio al mare tanto meno in montagna però comunque è meglio che un dito in un occhio come si dice dalle mie parti buona giornata ciao ciao ciao